Cari amiche e cari amici, il sitalo bufale.net non si smentisce mai, non è affidabile, non è attendibile. Una volta sono stato colpito anch'io da questi signori, che sono veramente i camelieri del potere e lo rivelano per l'ennesima volta. Sentite questo articolo, si intitola Cautela su 23 decessi dopo il vaccino in Norvegia. L'Agenzia del Farmaco frena gli allarmismi. E già nel titolo c'è una suggestione che si cerca di mettere. Perché c'è stato... Adesso ve lo leggo. I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato da Sputnik News ieri pomeriggio, 14 gennaio, che riporta il caso di 23 decessi dopo il vaccino in Norvegia e si presenta con un titolo molto forte In Norvegia 23 morti dopo la vaccinazione con preparato Pfizer-BioNTech. Cosa è successo realmente? Vediamolo insieme. I pazienti erano anziani fragili. Sputnik riporta il link al comunicato dell'Agenzia norvegese del farmaco disponibile a questo indirizzo e pubblicato il 14 gennaio. In sostanza, dei 23 decessi di cui parla il titolo, 13 sono stati studiati e la prima ipotesi è che gli effetti collaterali comuni potrebbero aver contribuito a un peggioramento dello stato di salute sui pazienti ricevuti. E quindi è la conferma di quello che volete dire, caribufale.net, che date come titolo cautela sui 23 decessi. Dove starebbe qui la cautela? Dove starebbe? Dice, 13 sono stati studiati la prima ipotesi che effetti collaterali comuni potrebbero aver contribuito a un peggioramento dello stato di salute. Sì, erano malati prima e il vaccino gli ha dato il colpo di grazia. E quindi dov'è questa bufala? Vado avanti. Tali pazienti erano anziani già fragili, ovvero affetti di malattie gravi. L'ho riferito Steiner Madsen, direttore dell'Agenzia norvegese del farmaco, all'emittente NRK nella giornata di ieri. E qui c'è un vergolettato. Di questi ci sono 13 morte, 9 effetti collaterali gravi e 7 effetti collaterali meno gravi. Ed erano tutti pazienti anziani e più cagionevoli, ricoverati in casa di cura di età superiore agli 80 anni. Per questo, aggiunge Madsen, i medici dovranno valutare attentamente chi dovrebbe essere vaccinato. Coloro che sono molto fragili e alla fine della vita possono essere vaccinati dopo una valutazione individuale. Tale considerazione, finito il virgolettato, tale considerazione è stata ripresa anche dal Ministero Norvegese della Sanità. Cosa si intende per pazienti fragili? Madsen con pazienti fragili intende soggetti affetti da broncopneumopatia cronica o struttiva, insufficienza cardiaca avanzata e demenza e altre gravi patologie. Sì, caribufale.net, resta il fatto che se non glielo dovevano dare, come dicono 2000 siti da mesi, gliel'hanno dato. Ma cosa cambia? Dove sta la bufala? Dove sta la bufala? Che volete dire? Che non è stato il vaccino perché già erano malati prima? Cioè la bufala è la vostra, è questo modo di ragionare totalmente illogico. Continuo, i primi 13 morti in esame, l'agenzia Norvegese del farmaco è intervenuta anche per far luce su 13 morti prese in esame, sempre in Madsen sottolinea che il vaccino è stato somministrato a migliaia di persone altrettanto fragili e in nessuno di questi casi l'esito è stato fatale. Sì, ma non è che qui stiamo a lotteria, voglio dire. Perché tutti questi morti non è che la cosa sia proprio... Cioè sono tanti questi morti, cari bufale, cari bufalari di bufale. La stampa internazionale riprende che secondo l'autopsia eseguita sui primi 13 casi questi morti potrebbero essere stati cagionati da effetti collaterali comuni, febbre e nausea, i quali anche se lievi possono avere effetti devastanti sui pazienti più fragili e bravi. Poi continua, la Norvegia modifica le linee guida sul vaccino per i pazienti fragili. Per questo motivo la Norvegia ha modificato la politica sui vaccini determinando che gli anziani e tutte le persone con problemi di salute non dovrebbero ricevere il vaccino se non dopo un'attenta analisi individuale. Il riscontro è presente in queste linee guida sul sito del Ministero norvegese della salute. Il tasso di fragilità dei pazienti è determinato dalla clinical fraternity scale consultabile a questo indirizzo. Vabbè, perché precisazioni? Parliamo di precisazioni perché l'articolo di Sputnik News non consente a chi si ferma al titolo di approfondire sulla vicenda. Bravi, siri e bufalari, eh? Ciò che si pensa fermandosi solo al titolo è che i 23 morti in Norvegia siano correlati al vaccino ricevuto, mentre in realtà si trattava di anziani fragili. Ma vi rendete conto questi bufalari come ragionano? E il problema è che se uno non sta attento poi alla notizia, crede a questa totalmente illogica bufala messa in giro da sti signori che sono loro a mettere in giro le bufale. Ve lo rileggo fino alla fine. Parliamo di precisazioni perché l'articolo di Sputnik News non consente a chi si ferma al titolo di approfondire sulla vicenda. Ciò che si pensa fermandosi solo al titolo è che i 23 morti in Norvegia siano correlati al vaccino ricevuto, mentre in realtà si trattava di anziani fragili ricoverati presso case di riposo, 13 di quali sarebbero deceduti, dubitativo d'obbligo, si attendono nuovi dati, pazzesco, a seguito di effetti collaterali comuni che ovviamente sui presenti fragili possono essere ledali. E in altri termini, caribufale.net, il vaccino gli ha dato il colpo di grazia. Ma come ragionano? Ma vergognatevi! A seguito dello spiacevole episodio, il Ministero della Salute norvegese ha disposto una nuova strategia di somministrazione dei vaccini ai pazienti più a rischio, determinando che ognuno di essi abbia ricevere una valutazione esclusiva prima di ricevere il farmaco. Ci sono arrivati! E poi dicono pure, se il nostro servizio ti piace, sostienici su Patreon o con una donazione Paypal. No, sostenete me il decimo toro che vi dice di come sono bufalari, ma non gli date un centesimo a sta gente, i bufali.net che mettono in giro le bufale. Ma vi rendete conto dell'assurdità? Riascoltatele, oppure andatevelo a leggere direttamente e ci riflettete sopra. È una follia questo articolo! È una follia questo articolo! Eh? Proprio a difesa proprio dei Big Pharma, cari bufalari! E cari bufalari, bufala-ri!